Passiamo alla politica. La città di Termoli ha bisogno di completare le opere pubbliche in modo urgente per il neoprimo cittadino Vincenzo Ferrazzano. Le necessità sono l'apertura di due parcheggi, lo spostamento del depuratore al porto e la pista ciclabile. Vincenzo Ferrazzano guiderà il comune di Termoli fino al voto del giugno 2024. Tra gli obiettivi da perseguire nell'immediato per la città adriatica, il completamento di due parcheggi auto, lo spostamento del depuratore del porto e l'ultimazione della pista ciclabile sulla costa molisana. In questi giorni del mese di luglio e agosto stiamo vedendo la grossa sofferenza di chi si viene a Termoli perché non si riesce a trovare un posto di parcheggio. Per cui va subito ripreso e affrontato e messo in atto tutte le procedure per la realizzazione del parcheggio multipiano a piazza Donatori di Sangue e il parcheggio della rigenerazione urbana a Pozzo Dolcio su cui abbiamo avuto già 5 milioni di finanziamento dal Ministero. Poi l'inizio dei lavori per lo spostamento definitivo del depuratore del porto e come prima dicevo in consiglio l'appalto e l'inizio dei lavori per il completamento della pista ciclabile di tutta la costa molisana per un importo di 23 milioni di euro. Per quanto riguarda l'ambiente veramente in questi giorni stiamo in grossa sofferenza perché dobbiamo riconoscere che sempre più andiamo avanti e più sempre il cittadino non si comporta correttamente per cui la ditta di raccolta dei rifiuti è in sofferenza. Però stiamo vedendo specialmente in questa ultima settimana la Rieco sta facendo gli interventi straordinari di lavaggio e di pulizia di tutto il centro e delle aree della nostra città per cui penso che in prospettiva miglioreremo sicuramente in questo settore. Da parte dell'ex primo cittadino Antonio Basso di Brino l'augurio di buon lavoro a Francesco Roberti decaduto dalle sue funzioni di sindaco di Termoli per il ruolo più prestigioso di governatore regionale. Francesco Roberti è riuscito a dimostrare che pur partendo dal basso perché lui è sempre stato uno di noi è riuscito a raggiungere quegli obiettivi che pochi riescono a raggiungere soprattutto stante anche la capacità di essere cresciuto da solo, di essersi fatto con le sue forze, con la sua capacità, con le sue competenze e oggi con la sua esperienza. Intanto a Palazzo Sant'Antonio la maggioranza di centrodestra è alle prese con la riassegnazione delle deleghe. In odore d'ingresso nell'esecutivo della squadra di governo Nico Balice, capogruppo della lista civica Roberti Sindaco.